Influx C'è, alcuni sono inconscienti, altri sono dalla disperazione L'Italia è fantastica quando non ci vivi L'Italia sono praticamente due decenni che ha una crescita nulla Se in Italia non è possibile, devi trovare la tua strada in una maniera o in un'altra Questo significa anche renunciare e prendere rischi Non è facile partire, ma una volta partiti non è facile tornare Cominciare è il nostro unico modo di esserci Grazie